La strada Parco è nuovamente un cantiere. Ieri sono iniziati i lavori sull'ex tracciato ferroviario all'altezza del centro sportivo Lenaia di Trappescara e Montesilvano. Il cantiere camminerà verso il centro del capoluogo adriatico per poi spostarsi sul tratto montesilvanese. I lavori dovrebbero concludersi entro l'estate e terminati i collaudi, la filovia vedrà la luce nel 2023 trasformando la più grande via ciclopedonale dell'area metropolitana in un tracciato dedicato al trasporto pubblico elettrico. I primi interventi sono quelli che riguardano le pensiline. Queste erano state realizzate una decina di anni or sono, insieme ai pali coi cavi per l'alimentazione. Il nome tecnico ebbi filare aereo di contatto, ma il contatto col filobus in tutti questi anni non è mai avvenuto. Nel tempo le pensiline si sono rovinate, mai state il punto d'attesa dei mezzi pubblici, ma utilizzate solo come normali panchine dove concedersi un po' d'ombra o come tela per i writer della zona. Ora le pensiline saranno abbattute e rifatte da capo, abbassandole di circa 15 centimetri. I marciapiedi quindi saranno alti la metà di come sono ora. Non si spenderà un euro in più rispetto a quanto previsto dal progetto approvato vent'anni fa, ha garantito il presidente di Tua, Giuliante. E intanto prosegue la ferma opposizione del comitato stradaparco bene comune. Pedoni e ciclisti saranno confinati nello streaming sito marciapiede laterale, dicono dal comitato. Della stessa idea il consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli. Comune, regione Tua devono ancora spiegare ai consiglieri comunali della città di Pescara come renderanno idoneo il tracciato che ospiterà il mezzo, ha scritto Frattarelli sui social network. I cittadini di Pescara e Montesilvano hanno bisogno di spazi, anche in virtù della prospettiva della nuova Pescara. Come si fa a non pensare la stradaparco come il vero e prezioso corridoio verde che unisce le due città? Questa è la domanda retorica posta dal consigliere comunale che chiede a regione e comune l'immediata sospensione dei lavori.